Da gennaio 2020 a ottobre 2021. Tanto è passato dall'ultima partita disputata alla Vitri Frigo Arena dalla VL. Sportivamente parlando, un'astinenza simile ad un'era geologica trascorsa tra blocco per pandemia, campionato 2020-2021 interamente senza pubblico, campionato 2021-2022 appena ripartito con Palasport aperti a capienza ridotta. Un digiuno di pubblico che si interromperà mercoledì sera quando la Carpegna Prosciutto Basket alle 20.30 affronterà Trieste in una seconda giornata di campionato rinviata di qualche giorno per l'arena occupata dagli europei di ginnastica aerobica e acrobatica. Si riparte con mille tifosi abbonati e una campagna di fidelizzazione che riprenderà giovedì. Si riparte con una squadra che al debutto di Sassari ha perso sì ma testa alta e guarda con fiducia al debutto in casa da affrontare anche con l'ultimo ingaggio di mercato di Tyler Larson. Abbiamo lavorato su tanti aspetti, volevo vedere altri miglioramenti che abbiamo visto in partita scorsa quando abbiamo iniziato il campionato. A venerdì abbiamo potuto avere un nuovo giocatore, Larson, nel primo allenamento. Fino adesso sono arrivati quattro giorni. I segnali di quel giocatore sono positivi però comunque c'è la tanta esperienza. Non voglio giudicare dopo quegli allenamenti che sono andati bene. Lui fisicamente sta senza problemi, ha preso le dinamiche della squadra in modo super veloce. Dopo l'allenamento di questa sera decido sulla quale strada andare o con lui in quintetto o con quintetto che è cominciato in Sassari. Bisogna vedere c'è sempre pro e contra. Pro essere che da principio entra tutto bene però non contra e che non voglio mettere tanta pressione adesso su di lui in prima giornata.